Come mai alla fine Taylor Mega nonostante le premesse di Alfonso Signorini e la voglia di varcare la Porta Rossa non è mai entrata al grande fratello VIP? A rispondere potrebbe essere stata involontariamente lei ai microfoni di mattino 5, quando ha svelato quanto guadagna su Instagram con un singolo post. Cifre che il reality non le avrebbe mai potuto dare soprattutto per il ruolo che avrebbe dovuto ricoprire. Ovvero quella della guest star. Non è che diventi influencer e arrivano i soldi a valanga. Adesso con le attività che faccio sui social, investo su altre aziende. Quanto vale un mio scatto? Dipende dalle varie promozioni. Ci sono promozioni da 8.000 e promozioni da 40.000 euro. Le cifre sono più o meno quello. Taylor Mega su Instagram ha 2,8 milioni di followers. Ci tengo a precisare che io non vendo le mie foto su una piattaforma privata, ma faccio pubblicità su Instagram. Oltre questo, ho un centro estetico a Milano. Ho un'applicazione di fitness dove ci sono persone che si sono iscritte per allenarsi con me. Cifre reali? Gonfiate? Esagerate? Irrealistiche? Quel che è certo è che Taylor Mega a giudicare da ciò che pubblica su Instagram la vita se la gode fra vacanze di lusso. Capi d'alta moda? Cene fuori e gioielli. Da qualche parte i soldi le devono pure entrare, proprio da Federica Panicucci ha svelato tutto.